Ok Andiamo Fammi stare attenta alla strada Perché non si sa mai Ho finito e risbuga Sto cacchio di treno Che figata assurda Sto gioco però Non è per niente male Questo? Uh Uh Aspetta 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 Cos'era 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 Fermo 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 Cos'è quello? Oh mio dio Non so manco se è una buona idea È il caso di fermarsi a vedere? C'è qualcuno? Ok chiaramente c'era qualcuno quasi Ah ecco gli scraps Perfetto Qualche altro pezzo di scrap 9 Non credo Non vedo nient'altro Ok Quindi qua non c'è Non c'è niente Tra l'altro vorrei evitare Di allontanarmi troppo Dal mio treno Perché Poi se mi attacca Quel cacchio decoso infernale Non c'ho Non c'ho Cioè non posso scappare Ah ma quindi Quella vita in basso a destra È la vita del mio treno Non quella di Carlo Oh porca Mi sono spaventato Spaventato da Dal tuono E Procediamo Cioè continuiamo Ok Stiamo per arrivare Ad un incrocio La luce in corrispondenza Indica la direzione del bilanario Ferma il treno E te reagisci con la leva a terra Ah devo cambiare io la cosa Oh mio dio Questa cosa non mi piace per niente Fermati 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 Ok Carlo Guai a te se Se vieni fuori adesso Eh Ok Tutto a posto? Sì Tutto a posto Uh Oh 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 Non mi vedi Non mi vedi Sì mi vedi Mi vedi Mi vedi Mi vedi Mi vedi Mi vedi Oh mio dio 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 Carlo 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 Stai calmo Carlo Perché devi fare così Carlo Mannaggia la miseria Oh mio dio Oh mio dio Sono morto Sono morto Sono morto Si è fermato il treno Dove sta Sono morto Sono morto Ok 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 Oh mio dio Oh mio dio Allora io non ci ho capito niente Ma porco Giuda Ho perso tre rottami Mannaggia la miseria Che dovevo fare Forse dovevo curare il treno Cioè dovevo aggiustare un po' il treno Però porca miseria Dove stiamo mo Ah ok siamo arrivati Sono morto ma siamo arrivati Ripariamo il treno Oh mio dio Eh ma così poco ripara Madonna Sto gioco è più difficile di quanto pensassi Allora Quella casa è la destinazione immagino Andiamo là Ah là c'è un tizio ok a posto Vabbè dai Carlo mi senti siamo 1 a 0 Va bene sei riuscito ad ammazzarmi una volta Complimenti prossima volta Non ti andrà così bene te l'assicuro Non è vero non è vero Mi farà il culo anche la seconda volta Allora eccoci qua Vedo che hai un'arma Io non sono un nemico Voglio solo ammazzare quel treno indemoniato Proprio come te Ah perfetto Già d'avvertita Eugenio Ottimo C'è un'arma di metallo nel palco Di mia casa Che potresti usare per riparare E migliorare il treno Grazie mille Ecco il gioco E anche se il palco È proprio dietro Mi farò solo Faccio la tua mappa Come una notte Parlate con qualcuno qui Ehm Ehm Dovranno ciò che possano Per aiutare Ah yeh Qualcuno Non portare una maschera Ehm Eh Guardate il palco E prendete Qualcuno che puoi usare Buona lucka con tutto In che senso Che non c'hanno una maschera Chi è che c'ha una maschera Scusate Ehm Signora In che senso Qualsiasi persona Che non indossa una maschera Cioè aspetta A parte il treno indemoniato C'è anche Ci sono anche persone impazzite Qua Oh mio dio Oh mio dio Sì Grazie 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 Ah yeh Questo cos'è Stiamo aspettando Il più pazientemente possibile Ma gli ultimi giorni Sono stati a dir Poco Caotici Charles è stato Più aggressivo Ultimamente Al punto che Comincio A temere Che non rimarranno Molti di noi Quando arriveranno I soccorsi Buona fortuna Eugene Contiamo su di te Eeeh Il povero Eugenio E' morto Signora Non so Non so Se Se lo sa Porca miseria Qui sotto c'era Una porta Però Non c'è Una chiave Eh Signora Per caso ha una chiave Per casa sua Ah Non posso Niente Vabbè Vabbè Al massimo c'è C'è ritorno Perché Se non sbaglio Neanche qua Al piano di sopra C'è stava La chiave Come ricontrolla Al volo Non si sa mai Non vedo Nessuna chiave No Niente Al piano di sotto Non si può entrare Vabbè Let's go Oh Oh mio dio Mi sono spaccato Le capiglie Ottimo inizio Grazie di tutto Signora Adesso posso Aggiustare Sto povero treno Allora Ok Ok E adesso Però posso potenziare Qualcosa Sai cosa Aumento i danni Va O meglio L'arma No no I danni 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 Ok Dai Perfetto Ok Quindi Questa missione È fatta Infatti è sparita Perfetto Andiamo Uh qua ce n'è un'altra Però A sto punto Andiamo là O Sì va Andiamo laggiù Allora Però aspetta Se mo incontro Carlo Come cacchio faccio Hello Ah ecco C'è qualcuno Non voglio farmi Nemici Salve Oh mio dio È una strega Eeeh È il caso Di avvicinarsi Boh Allora La signora di prima Mi aveva detto Che se non hanno Una maschera Va bene Questa non ce l'ha Una maschera Quindi Ciao Ciao Salve Ah Eeeh Guarda Non so se sei Cannibale Ma Io sono molto amaro Ah ok Oh no Ah ma porca miseria Ok quindi non solo c'è Carlo Da cui preoccuparsi Ma c'è anche questo Barry Qua che c'è sta? Un'altra lettera Ricetta dello stufato goloso e saporito Acqua di palude, sale, trifoglio Terra, sale Carne di qualsiasi tipo anche umana Lo sapevo, l'avevo detto che era cannibale E altro sale Madonna santa Quanto cacchio di sale ce vuoi mette? Qua c'è sta lì rottami dai eh Raccogli la carne al centro della palude Evitando le potenziali minacce Ok cioè devo nuotare? Mannaccia la miseria Barry Che cos'è Barry però? Voglio saperlo Uh qua ci sono altre cose Nice Signora che cos'è Barry? Cioè è un pesce? È uno squalo? Che cos'è? Almeno dimmelo no? Allora 3, 2, 1 Via Oh mio dio Oh mio dio Oh mio dio Ho paura Ho paura Ho paura Ho paura Ho paura Ok Barry Non so cosa sei Ma Sta indietro per favore Ah ma è il cadavere di un pesce Ah ok Io vorrei capire che cos'è Barry Io so sicuro che adesso mi attacca Oh mio dio Oh mio dio Barry Barry ti prego Lascia vissare Oh mio dio Oh mio dio Eh oh mio dio Ok Ok Ma che cos'era? Ma che cos'era? Non era un pesce di sicuro Non era neanche un piragna Quel cos'era una specie De De Gollum No ma che cos'era? No ma che mi ha messo qua giù? Ce l'ho ancora il pesce? No Che palle Aspetta Intanto fammi potenziare questo E Anche l'armatura Dai eh No Devo riprendere Che palle oh Mannaggia a te Barry Ok Quindi non devo nuotare Per troppo tempo Di fila Tra virgolette Spiegazione perfetta Non devo muovermi troppo Ecco Non devo muovermi troppo Allora Oh mio dio Barry Sto fermo Sto fermo Sto fermo Oh Oh Come cacchio faccio a spostarmi? Ok si sta allontanando Fermo Fermo Madonna Stavo a giocare 1 2 3 stella Varconciuta Fermo Fermo Oh mio dio Allontanati Per favore Dov'è finito? Sta qua Oh Sono così vicino Oh Oh mio dio Santo Ma porca miseria Oh signora Ma mi spiega Per quale motivo Quel coso È ancora vivo Uccidilo No ho capito Che ne so Se è il tuo animale domestico Non lo so Però porca miseria Non è normale Ecco Tieni il pesce Eh prego Grazie 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 Ok Allora direi di tornare al treno Che sta alla nostra destra Speriamo che non incontriamo nessuno di non amichevole Ah che bello Ah che bello mamma mia Oh mio dio quanto sei bello treno mio 30 rottami Stiamo a posto Allora io direi aumentiamo di tanto il danno Velocità Armatura E mo so non ho più abbastanza Vabbè non fa niente Ok dai Rispetto a prima Stiamo messi molto molto meglio Quindi forse se ci riattacca di nuovo Carlo Dovremmo stare a posto Allora Vediamo un po' Eh direi andiamo Eh si continuiamo su questa strada Dovremmo arrivare Alla prossima missione Tra poco Ah signora Grazie mille comunque Mi sono scordato di ringraziarla Ciao